Non potevamo non sostenere una manifestazione del genere che guarda oltre il risultato sportivo ma tende a premiare i valori, espressione di questi atleti e di queste atleti. Valori fondanti perché comunque in linea con quello che è lo spirito dell'associazione, capitanata da un presidente importante, Erika, una ragazza giovane di valore e di impegno, il messaggio che si vuol dare è quello di avere nella nostra comunità degli esempi positivi per cui lo sport coniugato ai valori vede ovviamente il sostegno del Comitato del Fair Play.